In questo luogo suggestivo, che è il Castello di Lauria, uno dei simboli, penso, di Castellione di Sicilia, si svolgerà il 21 di luglio, una tavola rotonda su un tema molto importante, vite, vino e sostenibilità. Questo posto, l'areale Etneo, è uno dei più bei posti della Sicilia dove si produce del vino importante, un vino che in questi ultimi tempi sta conquistando il mondo. In questo areale si producono e si cercano di realizzare, lo vedremo in questa tavola rotonda, dei vini particolarmente rispettosi dell'ambiente in linea con tutto ciò che è la Green Economy. Arrivederci al ventuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.